Intervento importante questa mattina da Cicatena in Via della Libertà. Un edificio che ingombrava da parecchio tempo è stato finalmente demolito grazie ai finanziamenti offerti dalla Protezione Civile Regionale. Abbiamo intervistato il Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, Giuseppe Barbagallo, che già da assessore nelle precedenti amministrazioni si è rimpegnato molto affinché si trovasse una soluzione adeguata per questo edificio che era abusivo. In Via della Libertà c'era un edificio costruito negli anni Ottanta che era un edificio pericolante, quindi negli anni passati eravamo riusciti a ottenere un finanziamento da parte della Protezione Civile, ma tra varie vicissitudini non eravamo mai riusciti a portare a complimento quest'opera. Finalmente quest'opera è stata portata a complimento, è stato un taglio strutturale, già un primo esempio c'era stato fatto in via Ture d'Agostino, questo è il secondo che facciamo all'interno del territorio comunale. Oggi con tutta la Commissione presente all'unanimità abbiamo fatto un superluogo, abbiamo verificato che i lavori sono stati completati, c'è da asfaltare un tratto di strada che proponiamo noi come Commissione di asfaltarla con le somme che sono rimaste dal ribasso d'asta e poi riaprire in Via Libertà senza la pericolosità di quell'edificio e quindi di quell'ingombro che c'era già da parecchi anni.